Benvenuti guardiani, questa volta ci troviamo nel nuovo video su Destiny dove vi farò vedere un glitch che è stato scoperto da More Console per trovare gli schiavi infiniti su Destiny, che è una cosa molto utile che vi potrebbe far comodo. Dovrete andare sull'antica Russia nella terra e seguire il percorso che vi sto facendo vedere io, se seguite proprio preciso e in maniera molto veloce il percorso che vi sto facendo vedere riuscite ad arrivare nel punto fatidico per affrontare questo nuovo glitch. Cercate di schivare il più possibile i vari nemici, vi ripeto è un glitch che ha scoperto More Console che poi vi sto facendo vedere rifatto. Arrivate a questo punto dove dovete evocare il vostro spettro, fate quello che vi chiedete di fare, poi ritornate sul vostro storie, seguite questo percorso che vi sto facendo vedere io e dovrete proprio mettervi in questo angolino, in maniera che una volta che uscirete dal vostro storie vi salterà in questo buco nero nell'apsus temporale, no vabbè scherzo, salterete in questo punto e avrete glitchato questa parte. Arrivate in questo punto seguite sempre il percorso che vi sto facendo vedere in maniera velocizzata se no finiamo l'anno del mai, saltate qua sopra e arrivate qui e trovate quella piattaforma, quella piastra là. In questo punto troverete questi schiavetti che devo dire sparano in pochissimo tempo, se contate i secondi saranno tipo 3 secondi, 4 secondi dallo spano tra uno e un altro, potete, ovviamente noi gli sparate come in questo caso, loro si suicideranno buttandosi di sotto, altrimenti potete spararlo uno a uno. E' molto utile per fare le varie taglie, ad esempio avete delle taglie con i colpi critici in testa, delle taglie di uccisioni con un'arma specifica o un tot di uccisioni, comunque sia per fare le taglie questo punto sarà molto comodo fino a che non lo pacceranno e quindi non ci sarà più, quindi approfittatene finché potete. Detto ciò spero che il video vi sia interessato e piaciuto e vi invito a lasciare un pollicione alzato e un parere qua sotto, vi lascerò con i miei ultimi due video caricati nel canale, io vi saluto qua in morti, bella per tutti, buona caccia guardiani! Ciao!